Il maggiore possiede una sola alterazione, allora sempre tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Questa è la struttura della scala maggiore, formata dal sol al la c'è un tono, dal la al si c'è un tono, dal si al do c'è un tono, c'è un semitono, dal do al re c'è un tono, dal re al mi c'è un tono, dal mi a fa diesis, che è l'alterazione c'è un tono, dal fa diesis al sol c'è un tono. Questa è la scala, appunto, ho dimenticato di mettere l'alterazione in chiave, questo è il fa, fa diesis, sulla direzione sharp, appunto, fa diesis.